Oggi, per la nostra serie Regole d'Italia, ti insegno una regola molto importante che forse non tutti sanno, ma tutti dovrebbero conoscere, e già non la conosceva neppure la famosissima Anita Eckberg. Eh sì, non si fa il bagno nelle fontane, è vietato e irrispettoso. Forse, lo sai, in Italia esistono tantissime fontane bellissime. Si può dire che ogni città e ogni piazza, o quasi, ha una fontana stupenda. Le fontane italiane sono veri monumenti d'arte. Le fontane sono tesori di cultura, storia e arte, e per questo vanno rispettate. Le fontane italiane sono un bene comune. Forse non sai che è ammesso bere, riempire borracce e bottigliette, bagnarsi il viso e le mani, ma è assolutamente vietato immergersi completamente nelle fontane, entrare nelle vasche d'acqua, gettarsi sotto il getto d'acqua, immergere piedi e gambe e anche schizzare i passanti. Se lo fai, beh, la multa per i trasgressori, devi saperlo, va dai 160 ai 450 euro. Certo, ogni giorno ci arrivano notizie di personaggi, come i due nel video, che non rispettano questa regola. Pensa, lei si sta depilando, lui si sta lavando per benino tutto il corpo, per poi sedersi fra poco a bere comodamente una bottiglia di vino, in una bellissima fontana di Trastevere, nel cuore della mitica capitale italiana, Roma. Sì, e a Roma sembrano veramente regnare i pazzi, come questo ragazzo piuttosto ubriaco che si è fatta una bellissima nuotata nella fontana dei Trevi. Ah, signore mio, ma i matti vengono tutti in Italia? Non lo so, ma guardate voi, nel prossimo video questa signora sta addirittura lavando una pentola in una fontana. Ma non poteva portarsela a casa e lavarla lì? Ma se pensate che questi siano dei pazzi, beh, non avete visto il signore che si fa comodamente il bagno incurante dei passanti e poi il più pazzo dei pazzi? Il nudo dalla fontana. Eh sì, lui è riuscito a salire tutto nudo su una fontana, ma con un bel cappellino rosso. Insomma, io spero di avervi insegnato una nuova regola. Mi raccomando, se ne volete scoprire altre, iscrivetevi al nostro canale e seguitici nelle nostre prossime lezioni di Italia e di Italiano. E mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali su Facebook in Italia Benetti, su YouTube in All You Can Italy e anche su Instagram a Italia Benetti. Ciao e alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao cari! Grazie.